Trainer Personal Beauty presenta il segreto di bellezza per il tuo cane. Con Trainer Personal Beauty potrai agire sulle diverse fasi di vita del pelo. Infatti, le proteine del pesce e i polifenoli della mila stimolano la crescita del pelo, mentre gli acidi grassi omega 3 e 6 favoriscono la salute della cute e del pelo. Infine, le sostanze ad azione antiossidante aiutano a rallentare il naturale processo di invecchiamento del malto. Il risultato? Morbidezza e lucentezza migliorate. Provalo!